Abbiamo fatto due giorni folli in costiera amalfitana, sorrentina eccetera eccetera eccetera, però adesso dammi la gopro Simo, adesso ce ne andiamo in bici a Capri, te sei mai stato Capri? No, guardate che hai il caschettino, adesso dalle terrazze partiamo e ce ne andiamo a Capri in bicicletta, i mezzi sono pronti, Pacchiani è pronto, e dalle terrazze questo posticino fico, guarda guarda quella è Uvesuvio, Vesuvio ci abbiamo fatto delle cose tip top, ma ora ce ne andiamo a Capri, barchetta, granita, gin tonic e via! Siete pronti? Sì, batteria com'è socio? Vabbè chiudi! Ad all'uovo, sta registrando? Sì! Armani va, Armani va, Armani va, prova a metterci a ruota a Fontana! E va, E va, E va! Eeeh, come stai? Sì, tutto a posto, tutto a posto, più o meno cari! Sì, tutto a posto, più o meno cari! Sì, tutto a posto! Siamo arrivati in piazza Tasso che è una delle piazze più famose di tutto Sorrento Allora adesso dobbiamo andare al porto e io ho una scorciettoia, vedi anche chi arriva prima? Vai Puoi scendere da qua? Eh, scende di qua Mamma mia, sei un grande Mi butto io, poi ci sposteranno Grazie, scusa, sorry, cheers Grazie Grazie La fregata Pacca è che faremo diventare famosissimo Pacchiani Ultima corva Siamo agli scoccioli Prova all'esterno Fontana Sembra di farcela Che poi brothers, il punto è questo Per andare a capri in bicicletta ci manca un pezzo sai? Cioè ci manca la barca Taglia, taglia questo pezzo Ho un amico che ha un charter di yacht che ve lo mettiamo in descrizione se volete farvi un giro sulla barca Sorrento Capri, Sorrento Tip Top, Faraglioni eccetera 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 Guarda le barchette Guarda le barchette Non leggiamo le cose vietate sul pontile perché secondo me siamo quasi tutto vietato Però c'è Albi che ci mostra dove andare Bella Albi Quando si aprono le porte Bicicaricate Capitano Ci porti a Capri Guarda che a destra ce l'ha tornata Viva E lo sapevi che le bici si potevano nuotare? No Ciao Sorrento Ci vediamo dopo Saluto Sorrento In sicurità resiste la bici? Ma hai miei dubbi Hold on Kimber Allora Kimber Tutto bene Tutto bene? Si Ma copri quanto abbiamo Che cosa? Quanto ci abbiamo a che apri? Eh, una ventina di minuti siamo arrivati E in che porto ci porti? Porto Marina Grande Tutto bene? 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 no praticamente ho preso una cosa simo che si chiama gopro che è questa qua con cui sto filmando il simo adesso si piazza lì ma io mi tuffo così e mo si va a caprio tracchiamo panino e giro in bici bella bagno fatto visti i faraglioni e mo siamo arrivati a marina grande marina grande marina grande capri praticamente stiamo cercando il trail giusto per battere il tempo di strada ma ma glielo dico abbiamo un avversario abbiamo un avversario facci vedere il gas facci la partenza allora c'è chiesto a quanto confidava mi viene andata una manetta salve